Quali sono i sogni dei giovani dell'agro? Quali le speranze? Quali i timori? Queste le domande che animano il primo piano del nuovo numero di insieme, il mensile di cultura ed attualità della diocesi di Nocera Inferiore Sarno, distribuito nelle edicole e nelle parrocchie dell'agro. Spazio anche alla festa del referente di scena il prossimo 8 novembre. Il primo piano di questo mese l'abbiamo dovuto dedicare alla ricerca del progetto Policoro. È una ricerca che hanno fatto questi ragazzi e questo team della nostra diocesi per analizzare la situazione dei giovani del nostro agro, quali sono le loro situazioni attuali, il loro impegno sociale, ma soprattutto quali sono le aspettative per il futuro. Siamo riusciti ad avere veramente un bello spezzato di quello che è la realtà dei giovani del nostro comprensorio, analizzando appunto quali sono le situazioni reali che vengono vissute. Su questo numero una cosa che ci piace tanto promuovere è anche l'intervista a Don Cirozzarra. Don Cirozzarra diventerà sacerdote il prossimo 30 ottobre e tutti quanti parteciperemo a questa grande festa diocesana presso la parrocchia di San Giovanni Battista.